Che c'è, hai paura? Te l'avevo detto che arrivavo con il mio esercito. Voi quanti ne siete? Si me se totine. Perché vi siete messi contro l'imperatore? Perché non devo a chi via, chi via. Quanti di voi siete su Facebook? E mia figlia si me se totine. Bambini, ma tutti i bambini. E i bambini dove sono? Sono a scuola, i bambini. Perché questa notte nel tuo impero c'era tanto fumo? Cosa è successo? Parla. È successo che mangia piccola? Hai bisogno di aiuto? E gli ha da mai. Sai che ti dico? E gli ha da mai. Tiena uerangab.